Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale, siamo ancora qui nella nostra fantastica cittadina di Springfield e siamo prontissimi insieme a tutti questi pollicioni alzati per iniziare un nuovissimo episodio Allora ragazzi stiamo andando avanti per quanto riguarda la storyline principale e inoltre ci stiamo occupando anche di qualche personaggiozzo secondario che abbiamo acquistato shoppando con le nostre ciambellozze sudate, duramente sudate Allora no non è vero perché ho shoppato anche le ciambellozze Comunque ad ogni modo ce le regalano solo che una o tre alla volta insomma non ci sbrigheremmo mai quindi io ho deciso di accelerare un po' con le cose Purtroppo per i soldi, per i dollari la cosa non va allo stesso modo perché si accumulano un po' più lentamente Infatti il prossimo pacchetto espansione è 50.000 e non ce la farei quindi in questo episodio non penso che compreremo al massimo uno qui da 5.000 però vediamo un po' perché tanto lo spazio ce l'abbiamo Allora dobbiamo andare a portare avanti la storia per quanto riguarda Bart che abbiamo sbloccato nell'ultimo episodio Homer non è un Cresty Burger, il giovane Stridulo ci ha fatto la missione da 24 ore e quindi di conseguenza tutti gli altri sono soltanto per esperienza e dollari A questo punto direi che possiamo iniziare a raccogliere tra l'altro missione giornaliera completata fatto, una ciambella e vediamo questo bonus che cosa è Congratulazioni, hai vinto Scatola Misteriosa Cosa abbiamo trovato? Cartello Prop Carnivora non lo so che cosa sia, vale 40 ciambelle vabbè non ce ne frega assolutissimamente niente per adesso lo piazzo qua però non lo so Se non disgusto i genitori, non spaventa i bambini piccoli, non è un cartellone pubblicitario Sì, ok, però... Ah, forse propaganda? Carnivora? Non lo so, penso quello però Grattachecca e Fighetto Show Non saprei proprio dove metterlo Cioè tipo, o possiamo metterlo qui Ah, tra l'altro, non so se potete notare Ho sistemato un po' la città Allora, ho asfaltato qui tutta la centrale Dopodiché ci ho messo questo laghetto, come vedete, con le scorie nucleari Per far capire lo schifo che inquina la centrale Ho sistemato il Krusty Burger Ci ho messo un po' di giochi, un po' di decorazioni varie L'ho recintato Ho fatto la recensione tra queste due case Ho messo un po' di cespugli, pianticelle Ho messo degli alberi belli qui per coprire la proprietà di Cletus Ho parcheggiato, o meglio, ho messo il parcheggio al Duff Stadium E vicino, ci ho messo il Soffia in Goia Che ho messo a costruire Così almeno facciamo le cose fatte bene Ho messo un albero vicino al capanno di Willy Giochi, fiori Ho messo un po' di fiori anche qui al Jet Market Un po' di fiori, o meglio, i cespugli Anche tra queste case Insomma, ho fatto un po' di lavoretti Ah, qui ci ho messo un albero rosso che non ricordo se c'era già o no Comunque, ho fatto un po' di modifiche Spero che così la città vi piaccia Insomma, a me sembra un po' più esteticamente bella Diciamo così E per il resto, andiamo avanti Raccogliamo Homer ci trova alle stelle per raccogliere Sasha Reed Se non sbaglio, dovrebbe chiamarsi Esatto Siamo a 25 su 40 Quindi siamo abbastanza vicini ad averla Dopodiché, il giovane ci completa la missione Qualcosa da mettere sul curriculum 100 dollari, 10 esperienza E completiamo anche quella di Bart Bart Crusoe, parte 3 Nuovo livello, 14 Ar, devi essere disperso in mare se giochi così tanto Ma in realtà, cioè, è veramente pochissimo Però, vabbè, se lo dici tu Una ciambella in regalo Cioè, in realtà, ripeto, ragazzi Uno di voi mi ha scritto che sta a livello 250 Io sto a 14, vabbè Andiamo avanti Costruendo il soffio in goia Missione, non è crusty burger, parte 3 100 dollari 1300 esperienza Stiamo andando spediti verso il livello 15 In modo tale da poter completare la missione Del tizio che dice sì O meglio, il tipo che dice sì Vediamo la missione di Bart, però Che cosa ci propone? Milaus, che noia Fallo schiantare Fai qualcosa Pilotare perfettamente è la sfida suprema Per gli appassionati di modelli Un vero scavezza collo Fai pilotare perfettamente il modello A Milaus Ok, vai, due ore Fai marinare la scuola Bart Quattro ore Lo mandiamo subito a farlo Dopodichè non abbiamo più niente Perché qui stiamo arrestando Telespa Bob Qui ci serve il livello 15 Vediamo un po' il nostro momento Ludopatia Che cosa ci regalerà 500 dollari Siamo arrivati a 49.000 Ottimo, ottimo E allora Visto che Per un pelino proprio Non siamo arrivati Al 50.000 Ci mancano 120 esatti Perché se no L'avrei magari anche costruito Ragazzi, vi dico questa cosa L'avrei anche costruito Vediamo se possiamo vendere Sto cartellone Ma al massimo Non si può fare Ovviamente E niente Allora direi che lo possiamo Piazzare qua Vicino alla centrale Anche se so che fa abbastanza Schifo Metterlo così Però E se no Dove lo mettiamo Cioè perché Nel centro Non mi va di piazzare Sto schifo Di cartellone Magari qua Ma nel parcheggio Ragazzi No No, no Dai mettiamolo vicino Alla centrale Dai facciamo così Che almeno copre un po' Di schifo Della centrale Ecco Lo piazziamo qua Lo lasciamo così E chi si è visto Si è visto Insomma lo lasciamo là così Per il resto Qui Eh no Non facciamo in tempo Perché di 4 alla volta No Facciamo le pomotate 4 ore Vediamo che novità abbiamo Vabbè Solo soldi Praticamente Magari Tipo Eh per 9 ciambelle Ma si dai Per 9 ciambelle Si può fare Compriamo l'espansione Ottimo E abbiamo sbloccato Anche questo pezzo qui Di espansione A questo punto Possiamo allungare La nostra stradina Che prosegue Dritta Senza mai fermarsi E Qui abbiamo un po' Di scorie Vabbè Lo facciamo tirare via Visto che ci siamo Presi The Skinner Vediamo che cosa abbiamo Da completare Allora qui abbiamo Gli abitanti di Springfield Che ci cercano I gettoni Ce ne mancano 2 E abbiamo esattamente 2 personaggi Quindi lo facciamo fare a loro Qui Ah ah Mi dispiace Skinner si deve Nascondere dalla madre Vabbè Niente Sarà per il prossimo Eh Purtroppo non avevo visto Comunque La terza non ce l'abbiamo Qui ci serve Homer O Marge Però adesso sono Entrambi impegnati Sia Homer che Lisa Quindi Nessuno di due Lo potremo usare No Pugia Forse sei liberato Homer Sì sei liberato Homer Quindi mi vai a cercare La stella da TV A P 4 ore Vabbè Insomma Ormai lo sapete Non c'è bisogno Neanche che io lo dica Facciamo fare A tutti quanti 4 ore A questo 24 ore Così ce lo arriviamo Davanti alle balle Tagliati i capelli Tipo che dice Si può tagliare i capelli Ah eh no Non lo può fare Perché ci manca Che cosa abbiamo Quaffè Unisex di Jake Abbiamo sbloccato Come vedete Tantissime altre cose Ragazzi Abbiamo sbloccato Greta Geck Fighetto Store Zona Malarica Bastoni della Pioggia Assortiti L'olandese Sfrigorante Scala Mobile Senza Meta Tana del Vulcano E Comistariato Per il livello 17 Abbiamo sbloccato Parecchia roba Vediamo Cresti Burger Va bene E qui Gazebo Cabina del telefono E Fiori Ok Allora Anche Lisa Ha terminato No I gettoni Non me li vai a cercare Anche se 4 ore Si dai 4 ore si può fare Questo I capelli Non si ritaglia Quindi Andiamo anche lui A fare 4 ore Allora Vediamo la prossima espansione Quanto viene 56.000 Mamma mia ragazzi Sempre più costosi Sempre sempre più costosi Allora Io a questo punto Direi che per questo episodio Possa essere tutto Ragazzi Spero che Vi stia piacendo Come stiamo Aggiustando la città Come sta avvenendo Su bella Grande E espansa Nel prossimo episodio Vediamo un po' Come siamo messi A ciambelle Perché E a dollari Soprattutto Che nel caso Scioppiamo qualcos'altro In modo tale Che Cresce sempre di più La nostra città Ragazzi Io direi che Per questo episodio Possa essere tutto Vi ringrazio per tutto il supporto Per aver visto Anche questa puntata In mia compagnia Ci vediamo Al prossimo episodio Auguro a tutti quanti voi Una buonissima serata E Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti